Oggi siamo qua per presentare Assai che è nata l'11 marzo del 2016, è nata racchiudendo le realtà delle quattro province abruzzesi. Abbiamo chiamato a raccolta i comitati più laboriosi, quelli con più inventiva e stiamo andando avanti con loro. Nasce perché c'è una condivisione di idee, c'è una condivisione di intenti e soprattutto si possono scambiare tutto quello che è stato fatto nell'arco dell'anno passato, dando consigli su cosa fare e cosa non fare, agire così nel migliore dei modi e nel minore dei tempi. Siamo nati spontaneamente a piccoli passi e la cosa bella in questo momento è che altre sei regioni ci stanno cercando, stiamo lavorando con un sindaco della Liguria, abbiamo contatti con due sindaci del Lazio, uno del litorale e uno dell'entroterra e in questo momento siamo contenti perché stiamo ottenendo tanti piccoli risultati dappertutto, per cui c'è stata data risposta positiva per le verifiche di vulnerabilità o ancora per quelle scalanti incendio che non erano state messe in giro. Noi puntiamo sulla sicurezza a 360 gradi, per cui al di là dell'indice di vulnerabilità la sicurezza base nelle scuole, questo è quello che chiediamo per i nostri figli, per i figli di tutti e continueremo a lavorare finché non verranno effettuate tutte quante le migliorie.